Una manifestazione in crescita, abbiamo sentito oggi numeri importanti, quasi 450 milioni di euro che arrivano direttamente alle stalle dei 4.000 associati che hanno tra il territorio Piemontese e Lombardo, direi numeri importantissimi di un prodotto che veramente può farci conoscere tutto il mondo. Gostosi come il territorio Cuneese, preziosi, bellissimi, indimenticabili, sicuramente è una delle eccellenze del nostro territorio, la carne della razza bovina piemontese, come è un'eccellenza i formaggi che derivano dal latte proveniente dall'allevamento della razza bovina piemontese. Quindi noi come ATL vogliamo assolutamente essere vicini alla promozione di questo punto di eccellenza del nostro territorio perché riteniamo che la nostra gastronomia, che si basa fortemente sulla carne e sui formaggi, sia una gastronomia di livello altissimo e sia uno dei punti cardine del turismo Cuneese. Questo è un momento importantissimo per la promozione del nostro territorio, non soltanto per andare a proporzionare quella che è la razza piemontese, ma per vedere anche quelli che sono i propri prodotti finiti, ovvero la carne che poi gusteremo in tutte le salse. Io vado assolutamente a sponsorizzare quella cruda dove veramente si sente la genuinità della nostra terra. La razza piemontese non a caso è chiamata l'oro rosso della nostra terra che abbinato agli ottimi vini e ai formaggi che citavo prima non possono nient'altro che andare a catalizzare e a intercettare i turisti da portare nella nostra terra. I turisti di questa carne qui sono, non posso dire che altrimenti sono ottimi, non lo dico io ma lo dimostra il mercato dove abbiamo una razza bovina piemontese in ascesa sia per quanto riguarda gli allevatori che per quanto attiene il discorso dei consumatori. Le tante richieste che ci sono non solo in Piemonte, non solo in provincia di Cuneo, ma in regione Lombardia, allevatori e consumatori, in regione Veneto e così pure in tutta Italia, oggi un interesse notevole da parte della grande distribuzione e non solo ma anche da parte dell'e-commerce, effettivamente sono, come vi posso dire, il termometro migliore che oggi ci potevamo attendere. Da provare? Sicuramente da provare in qualsiasi momento dell'anno perché... Allora mi sono messo a dare una mano alle signore, alle colleghe qui dove stiamo impiattando questa carne che è veramente la fine del mondo. Ma sono unici, sono i sapori della carne bovina piemontese, sono i sapori di una terra, sono i sapori della provincia di Cuneo, una terra che vuole farsi conoscere ma una terra che ha sapori nella montagna, sapori nella pianura, sapori nella collina, ma è un gusto da scoprire sia per scoprire le bellezze naturalistiche, quelle sportive e ovviamente quelle gastronomiche. Con questa manifestazione si pone un tassello che ormai è storico nella promozione a piemontese mettendo in mostra il migliore animali dei nostri allevamenti e abbinando a questa mostra un salone gastronomico che ne permette la degustazione. Ripartiamo in auge quel motto, l'isola del gusto vi aspetta.